Dopo la mappatura e la formazione base, prende il via un vero laboratorio in cui si lavora attivamente sui contenuti, il workshop. È necessario che i workshop siano sviluppati attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti per dare vita a un vero laboratorio di apprendimento. L'esperto che coordina il laboratorio è in quell'occasione l'attivatore territoriale, che deve stimolare il dibattito tra i partecipanti, dare spazio alla creatività e cercare di affrontare il tema in maniera innovativa. Il confronto, le discussioni e le contaminazioni sono essenziali per rielaborare le idee e creare contenuti tangibili. Dobbiamo ricordare poi che il workshop rappresenta un grande momento di comunicazione che dà la possibilità ai partecipanti di relazionarsi con il mondo esterno. È l'occasione per trasmettere la propria idea oppure è il luogo dove trovare una nuova idea. Per tutto questo dobbiamo comunque iniziare stabilendo le relazioni. Tutti i partecipanti si presentano comunicando quale contributo possono portare e quale obiettivo si sono posti. Con il supporto di Google Map poi e la mappatura precedentemente elaborata abbiamo geolocalizzato i luoghi, inserito tutti i dati emotivi e tutte le idee nate dai primi incontri. Il gruppo ha poi così lavorato direttamente sulla mappa con aggiornamenti e modifiche in tempo reale. Questo metodo che abbiamo utilizzato ha dimezzato i tempi di lavoro, ha coinvolto tutti i partecipanti attivamente e creato una base di lavoro anche in remoto che ci ha permesso la partecipazione e l'inserimento di dati anche a distanza per chi non fosse riuscito a partecipare agli incontri. Nell'ultimo appuntamento del laboratorio tutti gli attori coinvolti hanno elaborato, redatto, e illustrato una propria proposta che tenesse a conto del contributo del gruppo di lavoro. Le proposte hanno poi costruito la base per la coprogettazione, lo strumento per promuovere la collaborazione tra diversi attori che consente maggiore flessibilità di azione per ripensare la progettazione sociale. È uno strumento che attraverso l'aggregazione e la condivisione crea nuove reti generative in cui tutti i soggetti partecipanti donano il loro tempo e le competenze per costruire rapporti più solidi con gli enti pubblici.